quando lui fa gli attacchi 1 2 io continuo continuo ora quando lui è andata dietro io devo stare in questo posizionamento qui e poi cercando uscire di qua in questo modo ok vediamo 1 2 3 ora passi ho aperto la difesa e poi per averli qui addosso devo cercare di questa cantare la pam e uscire quindi fatta posa e viene così faccia posa e viene così 1 2 mezzo cancio e mezzo ruotire 3 4 questo di pesa e poi riesco e poi riesco